la dbr service fatris terzo appuntamento enogastronomico organizzato dall'associazione di borgo di montoro da mercoledì 21 a domenica 25 agosto negli ampi spazi del parco del sole la frazione sante ostacchio di montoro la festa del fusillo della porchetta la miscela è composta da buona cucina aria pulita un po di freschezza musica divertimento grande professionalità protagonisti principali il fusillo fatto a mano la porchetta il tutto accompagnato dai famosi vini d'occhio irpini tra i piatti che potrete degustare ci sono i fusilli al parco del sole oppure la montorese oppure con salsicce e porcini la porchetta con patate il palino con porchetta oppure aggiungendo provo le patatine e poi la variante casalinga con pomodori locali e cipolla ramata e ancora rosti di porcini patatine sfogliatelle anche il parcheggio aree attrezzata per bimbi uscita montoro sud proseguimento per santo ostacchio parco del sole mica la vorrai perdere